Justin Bieber sarà anche infelice e stressato, così tanto da volersi prendere una pausa dal mondo della musica, ma continua ad amare gli scherzi Così ieri, primo aprile, ha fatto un bel pesce d'aprile a tutti i suoi fan. Al centro dello scherzo, l'immagine di un'icografia che mostra un feto di 8,3 cm, più o meno coincidente con la 14-15esima settimana di gravidanza, data atta 2 febbraio Nessuna di Vascalia con cui i followers si scatenano in like e commenti. Dopo un'ora e oltre un milione di cuoricini, arriva la foto di Haley Baldwin incinta, con il ventre prominente mentre viene visitata dai medici sull'ettino ginecologico In primo piano c'è un'asta portaflevo che regge una sacca piena di liquido giallognolo, elemento che sembra esser stato messo apposta sulla scena per creare un'atmosfera più meditana Justin Bieber accompagna l'immagine con la villa, il tutto che cos'è Prolfus se pensavate fosse uno scherzo da prima Dopo mezz'ora un altro post, si tratta sempre di un'ecografia ma al centro dell'immagine, questa volta, c'è un cucciolo di cane La vita è, wait oh my god is the top, e Prolfus aspetta, oh my god è un pesce da prima La sasca scrolla e arriva il commento telegrafico di una followers che scrive, meglio così Una dei tanti followers che sognano che Justin Bieber torni dalla sua ex sterica, Selena Gomez, attribuendo ad Hailey Baldwin la sua infelicità I Bieber saranno presto in 3. Ma anche se Justin ci ha tirato un bel pesce da prima, siamo sicuri che la notizia della gravidanza di Hailey Baldwin non tarderà ad arrivare Nonostante la giovane età, 25 lui, 22 lei, i Bieber non vedono l'ora di diventare genitore Lo ha detto lui lo scorso 25 marzo quando, con un post su Instagram, ha annunciato che si prenderà una pausa dalla musica per concentrarsi sulla famiglia, sostenere il suo matrimonio e cercare di essere il padre migliore La modella, nipote di Alec Baldwin, ci aveva confessato in un'intervista due anni fa, che il suo sogno più grande era quello di avere quattro figli ma che si sarebbe accontentata di due All'epoca Hailey non era più la fidanzata di Justin. I due avevano rotto. E lei aveva il cuore aperto Adesso è felice, invece. L'ultima foto postata da lei, un giorno e mezzo fa, li mostra insieme su uno e uno La sua tuta larga sul ventre è pronta a nascondere ogni rotondità. E la vita scalia dei Bieber sa tanto l'are di essere il teaser di un annuncio importante Non resta questo. E presto avremo una foto in più da aggiungere all'album dei nuovi nati che trovate sotto Grazie per la visione!